di cui ci parleremo, ho già fatto una conferenza e una coppia del magazine di cui sono direttore di seriale appunto. Innanzitutto desidero ringraziarvi per essere qui oggi a nome di tutta l'intera associazione. Oggi in tale occasione vogliamo rendere pubblico, vogliamo dare un annuncio dell'imminente inaugurazione dell'ospedale che è stato costruito grazie all'impegno di tutti i nostri volontari presso la comunità di Cipolli, Songea e Tanzania. Desideriamo ringraziare prima di tutto il fondatore di Smile Africa Onlus e il presidente Gianni Abreoli. Desideriamo ringraziare Andrea Tommasi, vicepresidente della associazione, per il suo costante impegno e il tempo che dedicano in tutti. Desideriamo ringraziare la associazione Smile Africa Onlus e desidera dare il suo ringraziamento alla fondazione Cassia di Risparmio di Rovigo che è rappresentata da Elia Rubian per il finanziamento e per aver creduto in noi e ci ha permesso di portare a termine il progetto, quindi la costruzione dell'ospedale. Desideriamo ringraziare.